Il Covid continua a contagiare e a causare forme gravi di infezione, specialmente nei soggetti fragili. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono circa 200 i decessi causati ogni settimana dal Covid. I cambiamenti del virus, devo dire, molto attenuati ultimamente rispetto al passato, hanno cambiato anche quella che è la storia del trattamento dei nostri pazienti. Noi prima trattavamo tutti, adesso grazie alle vaccinazioni, ripeto, grazie alle vaccinazioni, la persona che ha un'infezione da SARS-CoV-2 senza altre copatologie probabilmente non ha bisogno di essere trattato. Di contro sta insorgendo il problema dei pazienti immunosoppressi, dei pazienti fragili, molti anziani, eccetera, che continuano ad essere a rischio morte da Covid. E quindi chi sono questi pazienti? Ovviamente sono i pazienti che hanno delle comorbosità, cioè sono i pazienti che hanno malattie croniche debilitanti, come può essere il paziente cardiopatico, l'insufficiente respiratorio, il diabete, l'insufficienza renale. Poi abbiamo un'altra categoria importante di pazienti che sono fragili per età. E poi esistono anche altre categorie, come per esempio gli obesi. L'obesità è una manifestazione che determina una grande infiammazione nel nostro organismo. Questa malattia è fortemente infiammatoria e quindi evidentemente si aggiunge fuoco laddove c'è già fuoco. Per i pazienti fragili il trattamento precoce con anticorpi monoclonali e antivirali rappresenta tutt'oggi la strategia più efficace insieme alla vaccinazione per prevenire l'ospedalizzazione, le complicanze e il decesso per covid. Abbiamo molte armi e molto efficaci che noi dobbiamo usare in quello che viene chiamato l'early treatment, cioè il trattamento precoce. Perché questo? Perché questa è una malattia che una volta che è partita, che si è scatenata, riuscire a fermarla non è semplice. Questo l'abbiamo imparato. Dobbiamo fermare il virus prima che si crei questa situazione di iperinfiammazione che poi diventa difficile a fermarsi. Ci sono degli anticorpi monoclonali che oggi ci danno delle prospettive più che significative. Uno di questi è sicuramente Sotrovimab perché ha un meccanismo d'azione diverso dagli altri e quindi ha mantenuto un'efficacia che alcuni altri purtroppo hanno perso. Il Sotrovimab, oltre a bloccare il virus e quindi a impedire che il virus entri nelle nostre cellule e quindi ha un'efficacia immediata. Ha un secondo meccanismo d'azione altrettanto importante che serve a migliorare le prestazioni della nostra immunità. In qualche modo partecipa attivamente al fatto che le nostre cellule dell'immunità riconoscano il virus e lo catturino e lo distruggono. Ecco, i risultati continuano ad essere eccellenti. L'eliminazione del virus è spesso difficile in questi pazienti, ma l'evoluzione della malattia è molto contenuta. Quindi dobbiamo pensare nuovo, dobbiamo ragionare con una malattia che è cambiata, attenuata nei pazienti che, ripeto, non hanno altre copatologie, rimane grave nei pazienti immunosoppressi, dobbiamo sapere usare tutto quello che abbiamo a disposizione e i fatti ci stanno dando ragione. Le terapie genetiche cellulari rappresentano la frontiera più avanzata della ricerca medico-scientistica, con opportunità di cura neanche immaginabili fino a pochi anni fa per pazienti affetti da malattie rare o senza alternative terapeutiche. Ma sono anche una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale, che deve garantirne accessibilità e sostenibilità. Questi temi al centro dell'incontro Unlocking Innovation, come preparare il sistema salute alla sfida delle terapie avanzate, organizzato da Ambasciata Americana e Vertix Pharmaceuticals. Ad oggi sono 18 le terapie avanzate in uso in Europa e 10 sono rimborsabili in Italia, ma entro il 2030 potrebbero essere lanciate fino a 60 nuove terapie, che potrebbero trattare circa 350.000 pazienti. Ne parliamo con Franco Locatelli, direttore del Dipartimento Onco-Ematologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Va creata una rete di centri sul territorio nazionale in grado di erogare questi trattamenti. Ovviamente questi centri devono rispondere a dei criteri di qualità molto ben definiti nel migliore interesse del paziente e vanno pensati dei modelli di rimborsabilità in grado di garantire al tempo stesso accessibilità e sostenibilità. L'evento è stata un'occasione di confronto per clinici, farmaco-economisti e rappresentanti delle istituzioni sul valore delle terapie avanzate, con un focus sulle possibilità di collaborazione tra pubblico e privato per garantirne l'accesso ai pazienti italiani. Federico Viganò, Country Manager Italia di Vertix. In una parola è collaborazione e dialogo positivo, cercare di trovare una modalità che possa essere una strategia win-win sia per i payers che devono chiaramente utilizzare al meglio i soldi dei contribuenti e per l'azienda e soprattutto per i pazienti per rendere disponibili in tempi rapidi le terapie avanzate di tutte le aziende, in questo caso particolarmente di Vertix chiaramente. Per sostenere e promuovere il valore delle terapie genetiche cellulari è nato VITA, valore e innovazione delle terapie avanzate, progetto che coinvolge clinici, pazienti, farmaco-economisti e legali.